Cari amiche e cari amici, in questo video voglio riflettere con voi su un fenomeno di questi giorni e in particolare su quanto sta accadendo relativamente a Casa Pound. Vi siete mai chiesti come mai un partito irrisorio con un gruppo di persone illimitatissimo e lo dimostrano i dati delle elezioni. Casa Pound non ha raggiunto lo 0,1%. Però Casa Pound è sempre sulla bocca di tutti. Vi siete mai chiesti il perché? In questo video voglio fare delle riflessioni insieme a voi. Dirò subito che non voglio essere né a favore né contrario il Casa Pound. Non è questo il discorso che mi interessa. Mi interessa sapere e riflettere con voi riguardo al fenomeno che si è costruito su Casa Pound. Casa Pound che, come ho detto, ha avuto lo 0, quindi non ha raggiunto l'1% alle elezioni. Quindi sono un numero limitatissimo di persone. Episodio uno degli ultimi che riguarda Casa Pound. Casa Pound a casa al bruciato. Urlano verso dei rom che avevano avuto un appartamento dal comune. Non c'è violenza, c'è solo violenza verbale. Pochi giorni dopo, un ragazzo uscendo dall'università, un ragazzo di vent'anni, qui a Roma, aveva una toppa di Casa Pound sullo zaino e alcuni giovani che stavano uscendo del volantinaggio, alcuni giovani dei centri sociali, vedono questa toppa, lo pestano di botte e gli fanno avere un trauma cranico. La rilevanza data dai giornali a Casa Pound a casa al bruciato e le proteste di Casa Pound è stata enorme, è andata su tutti i giornali. Si sono fatti dibattiti su questo. La notizia del ragazzo di Casa Pound, pestato e finito con un trauma cranico, è stata censurata, come se nulla fosse esistito. Altro episodio, prima di iniziare la riflessione, è quello dell'editore Altoforte, che si presenta al Salone del Libro. Già era stato presente al Salone del Libro, nessuno aveva detto niente, ma quest'anno, siccome c'è un libro che riguarda un'intervista a Matteo Salvini, ecco che scoppia una bomba dal punto di vista mediatico perché quest'editore dichiara di essere fascista e viene espulso dal Salone del Libro. Mentre nulla si fa per la casa editrice che ha pubblicato i libri di Cesare Battisti, terrorista e pluriomicida legato all'estrema sinistra. Ecco, questi episodi, inizia la nostra riflessione. Siccome la Casa Pound è un numero limitatissimo, vi siete chiesti perché ricorre il nome di Casa Pound. Ad esempio, chiudono un centro sociale violento e tutti i giorni si dicono ma perché non fanno la stessa cosa con Casa Pound? Ultimamente un cardinale si è calato in una sorta di tombino dove c'era una centralina elettrica e ha riattivato questa centralina che era stata disattivata proprio perché gli occupanti del palazzo non pagavano l'energia elettrica. Ne è scoppiato un caso mediatico ma in questo caso mediatico nei dibattiti ricorreva sempre ma perché non vi occupate di Casa Pound? Perché non vi occupate del palazzo che ha occupato Casa Pound? E allora, la riflessione è su questo perché tirare in ballo sempre Casa Pound visto che ha un'incidenza praticamente nulla? Nulla. Perché lo 0, non so non ricordo esattamente 0,6, 0,7% cioè non arrivare all'1% alle elezioni è un dato di fatto. Questi qui come incidenza politica sono a 0 però bastano 5 persone che con uno striscione si fanno riprendere con scritto non so viva Benito Mussolini e immediatamente succede il pandemonio dal punto di vista mediatico. E qui inizia la mia riflessione che come ho già detto all'inizio non vuole essere né contro né a favore di Casa Pound invece di Casa Pound poteva esserci un qualsiasi centro sociale o altri ma ne fatti questo sta accadendo relativamente a Casa Pound ecco questo tengo a specificarlo. Il fenomeno a mio parere è da rintracciarsi nel capro espiatorio e da questo punto di vista sono interessanti le analisi che fa René Girard un filosofo che si è occupato e ha scritto anche un saggio proprio relativamente al capro espiatorio. Innanzitutto che cos'è un capro espiatorio? Il capro espiatorio era un capro che anticamente durante tante dei rituali legati all'ebraismo veniva utilizzato e si chiedeva attraverso questo animale il perdono dei propri peccati nel tempio di Gerusalemme tant'è vero che questo rito legato al capro espiatorio era un rito ebraico appunto che era compiuto nel giorno del chippur ossia nel giorno dell'espiazione allora il sommo sacerdote con un cerimoniale caricava tutti i peccati del popolo su questo capro espiatorio e poi lo mandava via nel deserto lo allontanava e questo rito è descritto nella Bibbia nel Levitico ma anche nel Talmud e nella Mishnah ed era un rito molto importante quello del capro espiatorio e allora cominciamo col dire che in senso figurato capro espiatorio è qualunque sia cosa o persona ma può essere anche come nel caso di Casa Pound un gruppo potrebbe essere anche una organizzazione ebbene qualsiasi cosa che ti viene responsabile delle colpe collettive esattamente come la capra degli ebrei è su un gruppo di persone su un'organizzazione e così vengono caricate tutte le tensioni di un gruppo sociale e Girard fa delle analisi interessantissime da questo punto di vista perché afferma che il sacro la religione i miti nascono proprio in seguito a questo processo vittimario che si concretizza in specifiche situazioni in cui si trova la comunità sociale ho detto vittimario vittimario che vuol dire ecco il vittimario nell'antica Roma era l'assistente del sacerdote che ufficiava un rituale e il vittimario quindi stava vicino al sacerdote e aveva l'incarico di preparare la vittima e sgozzarla sull'altare quindi solitamente era un animale che veniva sgozzato sull'altare secondo gli ordini del sacerdote e era proprio il vittimario che lo sgozzava ecco dicevo che secondo Girard il sacro la religione e i miti nascono proprio in seguito a un processo vittimario che si concretizza in specifiche situazioni in cui si trova la comunità sociale queste situazioni nascono in momenti di gravi crisi crisi intestine che mirano la solidità di un determinato gruppo umano di una determinata organizzazione e minano anche la sopravvivenza di quell'organizzazione se ricordate ad esempio dopo essere andata malissimo nei sondaggi la Boldrini ha cominciato a parlare di fascismo 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 un fascismo totalmente immaginario perché ripeto Casa Pound all'elezione è arrivato allo zero virgola neanche all'un per cento e dunque il capro espiatorio tornando a Girard mettiamo che c'è una grave carestia una pestilenza il popolo è sconvolto l'esistenza delle persone non sa come fare fronte a quella epidemia che si diffonde e allora ci vuole un escamotaggio uno stratagemma una scappatoia grazie al quale recuperare fiducia in se stessi ma soprattutto grazie al quale ricomporre la crisi sociale e rappacificare gli animi e qui Girard propone una teoria antropologica analizzando proprio i comportamenti umani durante una crisi collettiva e sostiene che in queste occasioni ci si trova proprio di fronte a una precisa tipologia di risoluzione del problema che lui analizza grosso modo è così le singole rivalità tra gli uomini i conflitti degenerano velocemente e questo porta a un desiderio unanime e indifferenziato di vendetta Girard definisce contagio mimedico il propagarsi di questa vendetta che si espande a macchia d'olio all'interno della comunità colpendo qualsiasi cittadino anche il meno coinvolto in questa dinamica un po' alla volta viene a costituirsi una folla contagiata da un conflitto ed è pronta e disposta a scegliere una singola vittima contro cui polarizzare tutto l'odio generatosi nel caso dell'esempio fatto della Boldrini ma ce ne potrebbero essere molti altri il partito democratico si stava disgregando e allora ecco l'antifascismo è un motivo per ritrovare in qualche modo l'unità nonostante la crisi ed il conflitto interno al partito democratico tornando a Girard è interessante soffermarsi su questa folla che a un certo punto risente della crisi e quindi vuole risolvere il conflitto una massa di uomini esasperati da questa crisi interna che tendono ad unirsi proprio in preda a quella che Girard chiama una frenesia mimetica ossia una smisurata sete di vendetta di scaricare le loro tensioni su qualcuno ecco che si forma una folla pronta a lasciarsi andare a un episodio di violenza una volta individuata la vittima essa viene sacrificata o nel caso di Casa Pound linciata dal punto di vista psicologico o anche dal punto di vista fisico come è stato nel caso del ragazzo che è stato pistato da semplicemente perché aveva un una una toppa sullo zaino che richiamava Casa Pound e quindi ecco una comunità che divene preda di questo mimetismo violento e degenerato e vuole ricomporre la e risolvere la sua situazione conflittuale nel caso dei ragazzi dei centri sociali pestando il capro espiatorio che in questo caso era il ragazzo che usciva dalla sapienza nel caso della Boldrini cercare di ritrovare un'unità che è in un PD totalmente disgregato puntando sulla paura del fascismo di fascisti immaginari che non esiste un pericolo fascista quindi è interessante riflettere sul sistema vittimario considerando proprio i motivi che portano alla scelta del capo respiatorio e i motivi per cui una folla un gruppo un'organizzazione non si sottrae nel compiere un atto barbaro come nel caso del pestaggio del ragazzo di vent'anni o del linciaggio morale un linciaggio mediatico come nel caso avviene per Casa Pound Girard analizza sia singoli miti e molti eventi storici il suo saggio è molto ricco di esempi e arriva alla conclusione che la folla in preda a frenesia mimetica decide quindi quando si trova in questa situazione così conflittuale di tensione di divisoria così decide che le proprie vittime devono essere la causa potenziale della crisi che ha investito la comunità ed ecco nel nostro caso riportando la teoria di Girard Casa Pound che sono quattro gatti di un fascismo immaginario che non non esiste cioè se l'Italia mettiamo diventasse fascista perché ci fosse Casa Pound mettiamo avesse preso il 40% alle elezioni un'Italia fascista interverebbe immediatamente l'intera Europa contro l'Italia interverebbero gli americani ma così non è ne fatti il meccanismo il motivo principale che il meccanismo vittimario ha sempre funzionato dal momento in cui si ricorre a questo quindi la situazione conflittuale è sempre stata comporta anche se momentaneamente tant'è vero che la Boldrini organizzava le manifestazioni di piazza contro il fascismo e scendeva un sacco di gente contro il fascismo e anche lo stesso PD ritrovava la sua unità non a favore di qualcosa o proponendo qualcosa ma contro il fascismo immaginario e così viene spontaneo chiedersi come mai il meccanismo vittimario riesca a riportare la pace tra gli uomini attraverso nel caso di Girard parla anche di un omicidio perché si lega al capo espiatorio spesso il capo espiatorio può essere qualcuno che viene ucciso proprio oppure questa pace tra gli uomini può essere recuperata attraverso una espulsione della comunità come nel caso dell'editore altaforte espulso dal salone del libro e dunque Girard afferma che il denominatore comune dei vari miti consiste in due tipi di transfert ma adesso non mi dilungherò su tutti e due i tipi di transfert perché poi chi vuole può leggersi proprio il saggio di Girard sul capo espiatorio dedica moltissime pagine tra l'altro al sacrificio di Cristo molto interessante e dicevo il denominatore comune dei vari miti consiste in due transfert noi ne analizzeremo uno perché è quello che ci interessa ossia il transfert dell'aggressività transfert vuol dire trasferire su qualcun altro dunque l'espulsione della vittima nel caso ad esempio dell'antica Grecia venivano ostracizzate le persone allontanate costrette all'esilio deriva un beneficio concreto per l'intera comunità e così l'antifascismo il fascismo immaginario riesce a ricomporre il PD per opera della Boldrini che ribatteva fascismo pericolo fascista pericolo fascista e quindi c'è una ricomposizione della crisi a cui segue una pace seppur temporanea concludendo si può facilmente verificare e constatare come l'espulsione del capo espiatorio ha un effetto risanatore di dissidi quando allontanano l'editore altoforte dal salone del libro tutti i media si ricompone l'unità pochi si interrogano se è giusto o meno c'è stato chi lo ha fatto c'è stato ma cosa minica riflessioni minime rispetto al fatto che tutti sono d'accordo che ora la situazione è tornata stabile si è ricomposta c'è stata la risoluzione del conflitto attraverso l'espulsione dell'editore fascista altoforte come il conflitto viene risolto dai centri sociali pistando il ragazzo con la toppa di Casa Pound che usciva dall'università e come la Boldrini ricompone lo sgretolamento sessuale anche se provvisoriamente del partito democratico appellandosi al suo fascismo immaginario e quindi da questo sorge una sensazione anzi un dato di fatto cioè una maggior coesione e anche una certezza giustizia è finalmente fatta nel caso ad esempio della Boldrini ma ognuno può andare da un esempio all'altro di quello che ho fatto o trovare anche i suoi esempi nel caso della Boldrini ecco sì il PD abbiamo sbagliato e cosa stiamo andando male ci siamo disgregati ma siamo tutti antifascisti e quindi scendendo in piazza contro il fascismo si recupera la coesione e giustizia è fatta e questo perché perché è avvenuto il sacrificio rituale di cui ci parlava René Girard sacrificio che come lo stesso Girard in questo interessantissimo saggio dimostra ha sempre riportato la pace nella comunità fino dalla fondazione del mondo un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo